Per me l'arresto non è stata una sorpresa, me l'aspettavo, anche perché quel giorno quando è stata uccisa Sara non credo che lei realmente non avesse visto o sentito qualcosa, è impossibile ed è arrivata l'ora che loro dicessero la verità. Perché tu dici che non è una sorpresa? Ma perché è impossibile che si uccida una bambina così in silenzio, avrà urlato, si sarà dimenata, quindi è impossibile che lei dormiva e non sentiva niente. Un corso in un uccidio, che cos'è? Ma non mi fate queste domande che non me ne intendo. Adesso sono notti in carcere. La verità che prezzo, che valore è? Chi ha commesso un gesto del genere, che si prenda le sue responsabilità e che la giustizia faccia il suo corso.